Un pregio e un difetto del segretario generale uscente? Un pregio? Inarrestabile. In gamba. Sono due. Un difetto? Inarrestabile. In gamba. Secondo me ha ragione lui. I pregi e i difetti sono esattamente la stessa cosa. Ciò che è un pregio a volte può diventare un difetto. Quattro parole per definire il tuo segretario generale ideale. Avete risposto. Un nome per il prossimo direttivo nazionale? Canalis. Elisabetta. Lui? Come sta andando il congresso? E che cosa vi aspettate da questo congresso? Elisabetta Canalis. Io di conoscere molta gente perché non li conosco proprio tutti. Mi sembra che ci siano delle facce simpatiche. Sarebbe bello conoscerci fra tutti e rimanere anche in contatto. A parte la Canalis, comunque mi associo a quello che ha detto Giovanni perché questo congresso, a differenza di quello di Alghero, che è stato altrettanto bello, però ci sono nuove facce e si vede che l'associazione sta cambiando. Una frase che ti ha colpito? Di chi? Di questo generale, di quello che hai sentito. Gli avvocati raccolgono la sfida. Hashtag società. Hashtag diritto. Hashtag economia. Giovanni? No, non ho ancora sentito frasi che mi abbiano colpito. Confido nelle prossime giornate. Società di capitali, sì, no, perché? No, perché non ne posso più di parlare di società di capitali. Aboliamo le società di capitali. Voglio lo studio del bottegaro. Voglio lo studio ancora dove si scrive con l'inchiostro. Non voglio modernità. Voglio tornare al Medioevo. Questo è il mio sogno. Società di capitali sicuramente sì, perché in fin dei conti lo vorrei scegliere io. E vorrei poter anche scegliere di no. Lui la pensa come me, solo che non lo può dire. Io scrivo con l'inchiostro. Io col computer. Riforma del processo civile. Ci può salvare, sì o no? Siamo destinati al baratro. Niente ci può salvare. Nessuno ci può salvare. Forse soltanto a NF ci potrà salvare. No, io avrei una bellissima proposta di legge, che dovrebbe essere questa. Quando io vado a parlare col giudice, bisognerebbe che il giudice sapesse di che cosa sto parlando io. Questo risolverebbe quasi tutti i problemi. Io farei anche un emendamento al suo progetto di legge. Aggiungerei che il giudice, quantomeno, faccia finta di ascoltare quando noi parliamo. Fa già finta di ascoltare quando noi parliamo. E allora rivediamo questo disegno di legge. PCT. Meglio o peggio di prima? Meglio. Meglio, più comodo. E veramente molto più comodo, soprattutto quando funziona. E secondo me funziona. Come avete scelto di vestirvi per il congresso nazionale forense? In che senso, scusi? L'abbigliamento. Io ho optato per un atteggiamento e un abbigliamento sobrio, molto responsabile, che dia sicurezza e fiducia agli italiani. Io ho fatto finta di essere una persona seria, quindi mi sono vestito triste. E non a caso, anche io sono triste. Senza voler nulla togliere al rispetto e all'amicizia che è venuto per Giovanni. Siamo tutti due in blu. Abbiamo gli stessi occhiali, solo che uno li indossa e l'altro no. Ma sai che blu significa poi essere malinconici? No. Vedi come sei malinconico? Ma però blu significa anche l'autista dell'autobus. Quelli che portano il 5 sbarrato. Ma questa è roba di bari, che ne so io... No, no, perché no, credo che tutti così. Autobus o l'autotreno, signori, biglietto, biglietto. No, nella mia città gli autobus sono rossi. Eh sì, ma i condicenti portano la giacca blu, li ho visti. Siamo a Bergamo, perché voi due siete qua? Non avevamo niente da fare. No, Bergamo è una bellissima città. Ci sono mille modi per essere felici a Bergamo. Sto cercando qualcuno che me li spieghi. Fortunatamente c'è il sole. Cioè, diciamo, loro questo lo chiamano sole. Hai conosciuto persone nuove? Sì, e sono molto contento. Beh, persone nuove sicuramente. Cesare Piazza, un giovane che sta crescendo bene. Poi un'altra giovane che sta crescendo veramente bene, la vedo molto impegnata, è Laura Pernigo. Poi veramente ci sono consiglieri in fasce. Penso a Sergio Paparo, penso a tale Esther Perifano. Perifano, perifano. Ah, perifano, perifano. Perifano, perifano. Insomma, gente nuova, gente bella. Ciao raga, tutto rego. No, non ho ancora conosciuto abbastanza gente nuova. Cioè, ho conosciuto un sacco di gente, ma non era nuova. Adesso quelli nuovi li cerco domani. Sì, domani alla ricerca dei nuovi. Sono carine le donne di ENF? Sono carine le donne di ENF? Non lo so. Io di solito, per la verità, quando le vedo scappo. Quindi da dietro non so esattamente come sono. Cerco di difendermi. Ma non ho capito. Scappi perché sono carine o perché non sono carine? Qua bisogna essere chiari. Io quando le vedo scappo. Anch'io quando le vedo scappo. Scappiamo come i dannati, come i laureati quando escono dal ristorante per non pagare. Per questo siamo in una stanza chiusi qua. Chiusi, sì. Continuo, continuo. E le tazze della presenza dei giovani? La risorsa del futuro. È uno slogan però... È così. No, questa è una domanda seria ed è un obiettivo, veramente un obiettivo programmatico. Come sede di Bologna abbiamo cercato di portare cinque persone alla loro prima esperienza. È una grande scommessa perché un conto è parlargli di quello che accade qui, un conto è farglielo vedere. Non posso più mentire. La cosa che io non comprendo è che a molti di questi questo ambiente piace. La risposta mia è altrettanto seria. A volte noi notiamo nel paese che magari i giovani si allontanano, sono disinteressati. Credo che la responsabilità maggiore di chi è un po' âgé, un po' vintage, sia quella di veramente coinvolgere i più giovani. Per far capire l'importanza di quello che si sta facendo, di quanta passione ci può essere. Poi pensare che è anche un modo per stare insieme, condividere esperienze, opinioni e realtà completamente diverse. Il loro coinvolgimento è fondamentale. E poi Gigi, se non arrivano dei giovani, noi come facciamo a smettere? Infatti, e vogliamo smettere. Un nome per Miss Congresso? Io non mi posso esprimere soltanto perché non li ho visti tutti. Viste? Viste, sì. Adesso sono... Miss, femminile. Sì, viste, sì. Assolutamente, Simona Mazzocchi, quantomeno perché ci ha portato qui. Mazzocchi forever.